Il Fossombrone vince 2-0 in casa contro la Fermana e raggiunge la San Benedettese in vetta alla classifica. La Fermana resta in fondo alla graduatoria e ora tornerà sul mercato, come annunciato dal DS Paolucci in conferenza stampa, lanciando l'ultimatum delle prossime due partite ai giocatori che non daranno il massimo. Al 14esimo si infortuni a Carosi tra i canarini, sostituito da Luzzi. Al 18esimo Casucci a terra in aria Urso. L'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty ai padroni di casa. Sul dischetto va Casolla, che non sbaglia, 1-0. Ci provano ancora i bianco-blu, Procacci da fuori, alto. La Fermana si fa vedere dalle parti della difesa di casa. Al 40esimo Rominski ci prova dalla distanza, fuori misura. Nella ripresa subito un brivido per la retroguardia del Fossombrone, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, niente da fare. Al quinto Pandolfi va in solitaria verso la porta, decide per un passaggio all'indietro che viene intercettato dalla difesa. La Fermana sostituisce Palumbo con Lomangino. All'ottavo della ripresa il raddoppio del Fossombrone. Cross di Amerighi, svirgola alla difesa dei Canarini. La palla resta lì. Arriva Casolla, che la infila nel sacco. Cambio anche per i padroni di casa. Fuori torri, dentro Satalino. Al 40esimo esce tra gli applausi Casolla, autore della doppietta. Non succede più nulla. Fossombrone, mercoledì a Ravenna. Fermana, domenica in casa contro Sora.